Ragazzi, alzatevi in piedi. No, scusatemi, mi riferivo solo ai maschi. Le femmine possono risedersi. Ho una cosa importante da dirvi. Prestatemi la massima attenzione, per favore. State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata. Voi domani sarete uomini, fidanzati, compagni, mariti e padri e avete questa grande fortuna grazie ad una donna che vi ha generato. Amate le donne importanti della vostra vita e quando non riuscite più ad amarle, riservate loro il rispetto. Vi dico questo perché purtroppo anche oggi un'altra donna è stata uccisa da un uomo. Ma come considerare uomo colui che compie un tale gesto? Quindi, cari studenti, vi chiedo un piccolo gesto, un impegno. Ma prima di chiederlo a voi, lo chiedo a me stesso. Ogni volta che apprenderemo una notizia di un femminicidio, io porterò un fiore a mia moglie e voi scriverete un biglietto d'amore alle vostre compagne di classe. Sembrerà stupido, vi sembrerà poco, ma cominciamo con il fare qualcosa. Noi, pochi, in questa classe, nella speranza che poi qualcuno ci segua. Nella nostra scuola, nel quartiere e poi chissà che il messaggio non diventi contagioso e arrivi a tutti i ragazzi e agli uomini di domani.